truccata e distante io non ho mai avuto una famiglia vera mia madre era truccata e distante più che una donna una cosa da adorare mio padre era rozzo e diabetico violento e libertino e avevo cinque fratelli distratti e sbandati in realtà sono stato sempre un figlio unico e orfano per giunta di mia madre mi restano fotografie screpolate e il ricordo più vivo che ho di mio padre sono le sue mani enormi rosse sempre spalancate davanti al mio viso a minacciarmi i miei fratelli forse non mi sono mai fermato a contarli erano 5 o 50 non l'ho mai saputo quando sono andato via da casa ho attraversato via dei pineti con gli occhi bassi e il cuore in pace nessuno mi ha visto partire nessuno mi ha abbracciato o mi ha stretto la mano dietro l'ultima curva mi sono girato e ho respirato forte via da un mondo che non mi apparteneva più si ricomincia da zero commento spesso si attribuiscono molti dei nostri mali alla propria famiglia alla figura del padre alla figura della madre ai fratelli eccetera le guide spiegano che nascere in una famiglia anziché in un'altra con un padre anziché un altro con quella madre con quei fratelli ha un significato esatto quale un significato evolutivo e attraverso il nascere in quella famiglia che l'individuo può ampliare il suo sentire e scoprirsi un nuovo essere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti